Ciao ragazzi e suoli, come state? Spero tutto bene, spero che siate tranquilli, sereni e serenamente ci spariamo questa rassegna stampa. Si parte dal solito, secondo me, cinema, perché di cinema parlo perché mi sembra, come quando va al cinema, storie di fantasia. La storia di fantasia, come ho già detto ieri, è la questione, secondo me, la maura Milan, non perché il Milan non ci provi, ma perché è fantasioso immaginarsi che possa andare in porto. Sappiamo già tutte le questioni legate al fronte ambientalista e quando si muove il fronte dei comitati, l'ambientalismo e via dicendo. Diciamo che è piuttosto complesso, con l'amministrazione attuale, anche in comune, procedere. Sì, si parla che l'area Parco Sud poi passerà alla Regione, adesso di compensa il Comune poi passerà alla Regione, ma di fatto i comitati sono sempre lì e la vedo davvero estremamente grigia, estremamente grigia. Comunque sia, nuovo stadio, qua si parla di un'arma segreta, attenzione. Gazzetta dello Sport parla di arma segreta di Gerry Cardinale per la Maura. Seconda gazzetta dello Sport, sono previsti nuovi incontri anche nel prossimo settimana, ci saranno vertici anche con il Parco Agricolo Sud Milano, che ha messo in discussione, così come il Partito dei Verdi, il Consiglio Comunale, i residenti, quindi c'è l'armata al completo, il progetto che vorrebbe portare avanti in Milan, ma attenzione, per superare queste resistenze, l'arma segreta, dice appunto la gazzetta, potrebbe essere l'apertura al pubblico di una vastissima era verde nella zona che al momento rimane privata. Un'accolta comune, Regione Parco Sud, F3A Green, potrebbe smuovere la situazione. Allora, non so se è stato capito, ma al di là delle zone verdi, per quanto se ne possano fare, il tema è che i residenti diranno che aumenta il traffico, quindi aumenta l'inquinamento, quindi aumenta il casino. Poi, diciamoci la verità, nel progetto stadio, ok, che ci possono mettere a corrido l'area verde, ma il Milan deve ricavarci soldi, quindi è logico che insieme allo stadio ci saranno poi negozi, ci saranno poi probabilmente zone residenziali, quindi per quanto possa essere vasto il verde, sarà corredato anche da strutture la cui finalità logica, dato che si parla di un investimento mostre, impegnativo, è quella di far tornare poi un beneficio economico a chi ha messo i soldi per fare un'opera. È chiaro che non puoi mettere, cioè non puoi fare, non è come un mecenate che investe soldi a fondo perso con l'idea solo di fare del bene. Diciamoci la verità, lo stadio, Redbird lo vuole per farci soldi, per renderlo un qualcosa che porta incassi, ok, quindi per quanto possa esserci una promessa di verde, premesso che a questa poi dovrebbe corrispondere logicamente un aumento del traffico, un aumento delle emissioni sonore, tutto quello che volete in quella zona lì, signori, io ve lo dico, sarò, prendetemi per miscredente, poco positivo, ma le cose in Italia ormai un po' le conosciamo come funzionano, a seconda dei flussi politici in questo momento nel Comune di Milano c'è un certo flusso politico, io non mi esprimo sul flusso politico, io non voglio entrare in merito a questioni, a discussioni, però capisco qual è un sentiment intorno a questo progetto e mi pare un sentiment che non porta da nessuna parte e la prova l'abbiamo che, ripeto, dal 2019 in un'area dove c'è una colata di cemento, perché l'area intorno a San Siro, diciamoci la verità, è uno schifo, cioè San Siro intorno c'è cemento su cemento, eppure anche lì ci sono state discussioni, comitati, progetto, non progetto, babababa, quindi immaginatevi in un'area attualmente più verde cosa potrebbe accadere, ma non ne starei sinceramente anche a parlare, probabilmente Cardinale o Redbird, ripeto, non hanno ancora ben chiaro dove sono andati a capitare, e cosa significa fare opere di questo tipo in Italia, che non è la stessa cosa che fa gli Stati Uniti, mi viene da pensare che Cardinale non conoscesse un numero delle coppie campioni vinte dal Milan, apparimenti non conosce come funzionano i lavori pubblici, i lavori di questo tipo, le grandi opere in Italia, se lì non ne conosceva la storia del Milan, mi sa che men che meno conosce come funziona la questione dei grandi opere in Italia, quindi io davvero faccio un appello Milan, guarda altrove, guarda altrove perché appunto è un comune dove c'è un altro tipo di orientamento politico, fine, è un altro tipo di, deve essere un comune meno, meno ve, cioè aree meno ve di un'area magari già industriale, così non si, ogni, ogni, se un'area già industriale non c'è il presupposto di dire, ah, mi è andata a togliere il verde, no, è già industriale, abbandonata, è già un altro discorso, per quello io ripeto su sesto, la riflessione, per quanto mi dispiaccia tantissimo che Milan possa eventualmente uscire da Milano per fare proprio stadio ed è assurdo, io lo trovo assolutamente assurdo, però io fossi Milan davvero orienterei la testa al trofeo. Oggi si parla di nuovo di mercato, Grujic, il nome non so pronunciarlo, credo Grujic, giocatore Marco Grujic del Porto, tra l'altro un giocatore che anche se non è molto sponsorizzato, 27enne, a me piace, è un fisico importante, classico mediano, lui sì è un mediano che potrebbe fare il mediano in un 4-2-3-1, un mediano vero mi ricorda, ecco, i dovuti paragoni, mi ricordo un po' Van Bommel, ecco, come tipologia di giocatore e un giocatore che secondo me può essere utile, messo magari vicino a un tonali, con poi magari un, io spero sempre un centrocampo a tre o comunque un trequartista di ritorno, un giocatore così sicuramente, diciamo, l'elemento diga di fronte alla difesa garantisce, lo garantirebbe meglio degli attuali protagonisti, ecco. Quindi si parla di questo nome, Corredeo Sport lo fa, la verità però è che lui ha un contratto in essere fino al 2026 e conosciamo il porto che tipologia di boutique è, quindi i giocatori li sanno vendere, ecco. Quindi io penso che al di là del fatto che sia un giocatore che mi piace, un giocatore che potrebbe come essere utile al Milan, sinceramente non lo vedo concreto, concreta come possibilità perché mi sembra un giocatore che secondo me meno di 20 milioni non ti chiedono, di 15 o di 20, ha mai speso il Milan di Elliot oltre 10-15 milioni per un giocatore sopra i 25 anni, lui una 27, no, non mi pare proprio, non mi pare proprio, il Milan recente non ha fatto spese, eventualmente si fa spese di quel tipo, le fa per giocatori giovani, il cui valore poi si può incrementare, un giocatore di quell'età è al top, diciamo, della, della, della propria carriera e quindi il valore va poi eventualmente a decrementarsi e non è un tipo di investimento secondo me in stile Milan. Quindi questa è la mia opinione, poi se avremo Gruic, casso che cola, ma io sono piuttosto scettico. Corriere dello sport, contatti con i Wolfsburg per Franks nelle prossime settimane, anche qua, cifra pattuita per riscatto 12 milioni di euro, suppongo verrà ridiscussa, esatto, la dirigenza Nassone ha cercato di tenere uno sconto. Quindi da così, da quello che si dice su Corriere dello sport, il Milan vorrebbe puntare su Franks, forse anche, adesso non vuole essere troppo maligno, le poche apparizioni nel 2023 che siano frutto di una strategia per far abbassare il prezzo del cartellino. Sì, serve una strategia, diciamo, un po' spicciola e un po' cervellotica, spero di no, però è anche vero che magari le poche presenze che sta facendo ultimamente Franks potrebbe tornare utile nell'ottica di un riscatto, sempre che il riscatto possa aver senso, perché se poi lo riscattiamo è ovvio che bisogna impiegarlo di più, perché allo stato attuale Franks è stato davvero impiegato in maniera limitata. Tutto sport, Milan-Napoli si va verso i 10 milioni di incasso, quindi diciamo che si dovrebbe bissare il record fatto registrare con il Tottenham in casa e diventare la partita più redditizza di sempre, la seconda partita più redditizza di sempre col Tottenham e questa con Napoli potrebbe diventare davvero la partita più ricca di sempre. Calcolate che tra Tottenham e Napoli sono 20 milioni che entrano in cassa, mi verrebbe da dire, magari poi li rimettono sul budget, però consideriamo che 20 milioni abbiamo preso, per questo la Champions League è fondamentale, perché ti dà una capacità di generare cassa pazzesca rispetto al campionato, quindi questo è, io volevo ieri prendere i biglietti, non sapevo quanto costassero, effettivamente col mio abbonamento, il posto mio sarebbe costato 119 euro e per questioni di spesa mia in questo momento alla fine ho rinunciato, quindi non ci sarò allo stadio, anche se la cosa mi dispiace, ma 119 euro in questo momento per me erano una spesa eccessiva, perché ho altre cose in ballo, quindi niente, me lo guarderò da casa, ma chiaramente non ci sarà dubbio che anche se non ci sono io lo stadio sarà comunque pieno e si tifferà tutti insieme in Minan, senza ombra di dubbio. La Gazzetta recita poi in conclusione il ritorno a quattro della difesa, si parla di una Calabria in grande spolvero, io personalmente in tutta onestà, considerando anche l'ottica del Napoli, dove su quella fascia c'è Kvarscheglia, Calabria ultimamente l'ho visto molto indietro sul fronte dell'atleticità, personalmente, mio parere personale tanzino a destra metterei Calulu tutta la vita, poi centrali vediamo chi, che siano Tomori, Kier, Chokier, Chokier o chi volete voi, sinistra Ternandez, però a destra, insomma Calabria in questo momento è inadatto ad affrontare Kvarscheglia, poi magari lo si mette e fa una partita ritorna, ma l'ho visto molto, molto fuori formati, quando l'ho visto ultimamente non mi ha convinto proprio Calabria, e dato che non sta giocando un po', metterlo così pronti via in una partita come con il Napoli, con un cliente più complesso che possa trovarsi in Serie A, in questo momento, sinceramente, non lo so, mentre Calulu atleticamente è prestante e secondo me potrebbe tenere bene Kvarscheglia, staremo a vedere, vi ho detto la mia, voi ditemi la vostra nei commenti, se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto non mettete like o mettete non mi piace, io vi saluto, vi mando un abbraccio e alla prossima, ciao!